Heidi capitolo 5. Due visite e relative conseguenze. Parte prima. L'inverno era trascorso, poi era venuta l'estate e un nuovo inverno stava per finire. Heidi, sempre felice, Gaia come un passerotto, vedeva approssimarsi con gioia la primavera. La tiepida brezza aveva sciolto le nevi e Pietro avrebbe ricominciato a condurre le capre al pascolo. Durante l'inverno il borgomastro di Dorfli aveva sollecitato il vecchio per mezzo di Pietro perché mandasse la bimba a scuola e ogni volta a questi aveva fatto rispondere che aspettava lassù chi volesse interpellarlo. In ogni caso non avrebbe mandato Heidi fino al villaggio. Il sole di marzo faceva sbocciare i candi di bucaneve più in alto, gli abetti scrollavano dai rami gli ultimi residui di neve. Heidi, irrequieta, usciva ogni momento dalla casa per tornare subito dal nonno e narragli i progressi dei fiori e dell'erba che il sole faceva rompere con violenza dalla terra. Un mattino mentre stava correndo sui prati Heidi si fermò alla vista di un uomo vestito di nero che la guardava seriamente. Al vedere quel visino spaventato egli le rivolse la parola con dolcezza. Non temere piccola, i bambini sono i miei amici, vieni dammi la mano. Sei la piccola Heidi vero? Dov'è il nonno? Sta spaccando la legna, disse ella aprendo la porta. L'uomo entrò ed avvicinandosi al vecchio e lo salutò con un cordiale buongiorno. Sorpreso, egli alzò la testa china sul lavoro e gli tese la mano. Buongiorno signor pastore, vogliate sedervi, disse offrendogli uno sgabello. È molto tempo che non ho il piacere di vedervi, cominciò il pastore. Da quando cioè avete abbandonato il villaggio? Infatti, forse indovinerete la ragione che mi conduce cassù e sulla quale spero potremmo metterci d'accordo. Tacque e gettò uno sguardo verso Heidi che in piedi sulla soglia lo guardava incuriosita. Heidi, disse il vecchio, va a vedere le capre e porta loro un po' di sale. Non tornare fino a quando non ti chiamerò. La bimba scomparve. Già da un anno questa bimba dovrebbe frequentare la scuola, continuò il pastore. Tutto al più avrebbe dovuto andarci almeno durante l'inverno. Il borgomastro vi ha avvertito più volte, ma voi non avete risposto. Quali sono le vostre intenzioni riguardo alla bambina? Non intendo mandare Heidi a scuola. Il pastore lo guardò stupito. Ma che volete farne di questa piccola? Nulla. Cresce felice fra le sue capre, che non potranno insegnarle il male. Ma essa non è una capra, una creatura umana, ed è giunto il momento di mettere termine alla sua ignoranza. Avrete tutto il tempo di prepararvi all'idea durante l'estate, ma spero sarà l'ultimo inverno che questa bimba avrà passato senza ricevere alcuna istruzione. Inutile, signor pastore, rispose il vecchio senza lasciarsi smuovere. Credete dunque che non vi siano altri mezzi per farvi intendere la ragione? Continuò il pastore che cominciava a riscaldarsi. Voi che avete conosciuto il mondo dovreste capire queste cose. Vi avrei creduto più di buonsenso vicino. Ah, davvero, rispose il vecchio che pure tradiva l'interna agitazione. Dunque, signor pastore, voi credete che io possa permettere che la bimba, delicata di salute, faccia durante l'inverno un tragitto di due ore con qualsiasi tempo? Forse il signor pastore dimentica la madre, adelaide, che andava soggetta ad accessi nervosi? Non c'è nessuno al mondo che mi costringerà a farlo. Andrò piuttosto davanti ai tribunali, me la vedrò quei signori giurati. Avete ragione vicino, rispose il pastore in tono conciliante. Se la bimba è tanto delicata è evidente che non potete mandarla da qui fino al villaggio. Vedo che le siete molto affezionato. Fate dunque per amor suo ciò che avreste dovuto fare già da molto tempo. Scendete voi ad Orfle in mezzo ai vostri simili. Che vita fate quassù, in collera con Dio e con gli uomini? Se vi capitasse qualcosa, chi potrebbe soccorvervi? Non capisco come non siate mezzo morto dal freddo durante l'inverno e come la bimba abbia potuto sopportarlo. Il signor pastore non si preoccupi per lei, alla sua età al sangue caldo e d'altronde le coperte non mancano in casa mia. Anche la legnaia è ben fornita e da qui da me il fuoco è sempre acceso. Se la gente di laggiù mi disprezza è meglio vivere alla larga, tanto di guadagnato per tutti. No, no, non è vero che vi troviate bene in simili condizioni di spirito. La gente non vi disprezza come voi dite. Credetemi vicino, cercate di rapacificarvi con Dio. Chiedetegli perdone, vedrete che gli uomini vi tratteranno diversamente. Intanto il pastore si era alzato per andarsene. Strinse la mano al vecchio aggiungendo cordialmente. Conto di vedervi da noi l'inverno prossimo e di passare molte ore piacevoli in vostra compagnia come un tempo. Mi spiacerebbe che si fosse costretto a usare la forza contro di voi. Andiamo dunque, promettetemi che scenderete. Il vecchio con un breve sorriso ricambiò la stretta, ma replicò in tono fermo. Siete molto buono con me, signor pastore, ma non cambierò la mia decisione. La bimba non andrà a scuola e io non scenderò. Allora che Dio vi aiuti. E lasciando la casa al pastore si rimise tristemente in cammino. Fine prima parte.